Vi sarete chiesti cosa c'entra uno scrittore con Caravaggio perché io appunto sono uno scrittore e non sono un critico letterario. Uno dei motivi, ha già detto Gianna Fratta, un altro, ve lo dirò nel corso di questa conversazione. E' vero che io nei confronti di Caravaggio negli anni ho sviluppato, non posso dire un'amicizia perché oltretutto credo che fosse complicato essere amico di Caravaggio, era una persona con un carattere difficile, ma perlomeno una certa consuetudine. Quindi quando ho visto le immagini dello spettacolo che voi vedrete fra poco, mi sono chiesto chi ne avrebbe pensato Caravaggio di questa cosa. Cioè del fatto che i suoi quadri siano restituiti attraverso questi che si chiamano tableau vivant. Però poi ho anche pensato, tableau vivant tradotto in italiano vuol dire quadri viventi. E cosa sono i quadri di Caravaggio? Cosa ha provato tutta la vita a fare Caravaggio se non dei quadri viventi? Quindi credo che lui sarebbe molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto questi attori di Deato 35. Perché? Perché per tutta la vita Caravaggio ha provato a collegare, a mettere dentro le sue opere la vita. La vita che era intorno a lui, la vita delle persone con cui lo circondavano. Tanto che alcuni critici hanno addirittura parlato di una dimensione autobiografica della pittura di Caravaggio. Autobiografica non perché ovviamente Caravaggio dipingesse situazioni sue, personali o che si svolgevano intorno a lui. Ma perché lui cercava di raccontare, di mostrare le storie che raccontava, che erano storie religiose, erano storie della Bibbia, erano storie del mito. Però di raccontarle dandogli la forza della verità. Cioè permettendo a chi li guardava, a chi guardava quei quadri, di riconoscere qualcosa. Cioè di non vedere i due quadri come qualcosa di distante, di alto, di diverso da sé. Ma invece di trovandoci dietro, dentro, trovandoci dentro cose della sua vita. E quindi in qualche modo comprendendoli di più. Stiamo parlando di anni in cui la pittura aveva questa funzione. Era una funzione di comunicazione nei confronti della gente. Perché quasi nessuno sapeva leggere e scrivere. Quindi l'unico modo che c'era per raccontare, per spiegare alle persone, era appunto dipingerle. Fino a quel momento si pensava che dipingere dovesse essere qualcosa che elevava. Che l'insegnamento stesse proprio nella distanza tra chi osservava il quadro e quello che c'era nel quadro. Un altro dei quadri che vedrete stasera. La Madonna dei pellegrini. C'è la Madonna e davanti alla Madonna due pellegrini incinocchiati. Sono incinocchiati, scarsi, per omaggio. Si vedono le piante dei piedi di questi pellegrini. E come sono le piante dei piedi di questi pellegrini? Sporche. Urbane, no? C'è certo questi, chissà quanti chilometri hanno fatto per arrivare fin lì. I piedi li hanno per forza sporchi. Sì, ma se li avesse dipinti qualcuno anche pochi anni prima di Caravaggio, li avrebbe invece dipinti come due piedi perfetti, assolutamente puliti, anzi addirittura incorpore. Invece questi sono dei piedi normali, dei piedi appunto sporchi. Poi la luce. Prima di Caravaggio la luce illumina qualsiasi immagine di un quadro in modo universale. Cioè tutto il quadro è illuminato benissimo e tutto è illuminato allo stesso modo e si vede tutto perfettamente. Per dargli un senso di realtà e per assurdo anche per dargli un senso di teatralità, le due cose non sono in contraddizione, cosa fa Caravaggio? Comincia a dipingere come se la luce arrivasse da una fonte, come è nella vita. La luce viene da una finestra, da una finestra e da una candela. Quindi quello che non è illuminato dalla luce della finestra o della candela risulterà buio, risulterà scuro, risulterà meno chiaro di così. C'è un quadro meraviglioso che ha troppi personaggi per poter essere di fatto questa sera dai tre attori bravissimi di Teatralità 35 che è la vocazione di San Matteo in cui la luce arriva lateralmente da una finestra in cui Gesù che sta chiamando Matteo quasi non lo vediamo perché la luce gli scone al fianco e perché è anche un po' coperto da Pietro che gli sta davanti. La luce illumina queste figure meravigliose che sono intorno al tavolo insieme a Matteo, stanno giocando e questa luce colpisce Matteo appunto come la chiamata, come la vocazione che è. È una roba rivoluzionaria, tanto è vero che quando lui ha fatto questo, un altro e un altro sempre dedicato a San Matteo per San Luigi dei Francesi a Roma è scoppiato uno scandalo nel senso che chi gliel'aveva commissionato la chiesa non lo voleva più poi perché non gli andava bene perché non si fa così, perché non si può rappresentare Cristo in ombra. E pensate cosa deve essere stato per una persona che viveva di questo perché lui viveva delle commissioni che gli facevano, non mollare perché comunque questo era il suo modo di vedere le cose, il suo modo di provare a dipingere queste cose.